Andati proprio a Castelplanio. Carlo Urbani non era un eroe né un missionario, era un medico originario di Castelplanio, un esperto in malattie tropicali, infettivologo che svolgeva la sua professione con generosa serietà e con passione scientifica. Vent'anni fa è nata l'Aipo, l'associazione internazionale Carlo Urbani per volontà dei suoi familiari e dei suoi colleghi e amici. Una ventina le pubblicazioni uscite in questi anni. Una delle prime, pochi mesi dopo la morte del medico, fu Le malattie dimenticate, poesie e lavoro di un medico in prima linea. Una pubblicazione a cura di Marco Albonico, oggi introvabile, che si può consultare qui presso la sede dell'Aipo. Tanti giornalisti che si sono occupati della vicenda, nei titoli dei loro libri Il senso della vita e dell'impegno del medico. Medico senza frontiere, ritratto di Carlo Urbani, a cura di Lucia Bellaspiga, oppure Il medico del mondo di Jenner Meletti. Negli anni è nata l'esigenza di far conoscere la figura di Carlo Urbani anche ai più giovani. E così è nata la favola di Francesco Vintrici, maestro anconetano Carlo Cuor di Coraggio. E c'è una maestra di ricanati, Ilenia Severini, che ha scritto anche un libro proprio per i ragazzi degli elementari. Carlo Urbani, Una vita per gli altri, La spiga edizioni. È un libro che nasce da una frase che ha scritto Carlo. Ho fatto dei miei sogni, la mia vita e il mio lavoro. Io l'ho trovata talmente bella che ho iniziato a parlare di Carlo ai bambini prima della mia classe, poi nelle classi vicine. E poi è nato questo libro che è un libro di narrativa, che può essere anche uno strumento didattico da utilizzare in classe. Racconta la storia di Carlo in maniera molto molto semplice e questa storia ha un impatto straordinario. E sempre nell'ambito dell'editoria per i più giovani, quest'anno per Becco Giallo è uscito Carlo Urbani, il medico della SARS. La prima biografia a fumetti di Carlo Urbani a cura di Francesco Niccolini e Sara Vincenzi. Un giornalista e scrittore particolarmente impegnato sulla figura di Carlo Urbani è Vincenzo Varagona, nostro ex collega alla TGR Marche e attuale presidente nazionale dell'UXI. Dieci anni fa Vincenzo Varagona scriveva Il medico della SARS, Carlo Urbani raccontato da quanti lo hanno conosciuto, un libro che è stato tradotto anche in cinese e taiwanese. E sempre per le edizioni paoline di poche settimane fa, l'uscita dell'ultimo libro di Vincenzo Varagona, l'eredità di Carlo Urbani, il protocollo che ha salvato milioni di vite con la prefazione del direttore generale dell'OMS e la presentazione di Roberto Burioni. Un volume che nasce non solo per raccontare il medico della SARS a chi non l'ha conosciuto, ma anche per raccontare quanto Carlo Urbani sia riuscito a camminare in tutti questi anni dopo la sua morte con le gambe di amici, colleghi e conoscenti, arrivando a tanti cuori anche in modo inaspettato. Scaffale torna la prossima settimana. Buona lettura.